Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come salvare così l'errore matchmaking su Fortnite ovviamente se stai riscontrando problemi sulla connessione ai server su Fortnite è possibile direttamente ripristinare alcune cose sul gioco e soprattutto aggiungere un DNS, un DNS nuovo di zecca sulla nostra rete quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato pure il link che ti porterà sulla pagina DNS Benchmark, lo scarichi, corri così il benchmark per vedere quali sono i migliori server DNS quindi in questo caso questo qua lo facciamo dopo quindi andiamo un attimo su esegui, dobbiamo entrare nella cartella appdata quindi scrivi %appdata% e fai ok andiamo in appdata, vai su appdata, local, c'è in fine giù vieni a trovare così la cartella di Fortnite game vai su save, vai su config, vai su Windows client e andiamo su game user settings ovviamente tutto quello che c'è su Fortnite sta in questo documento qua puoi anche fare delle modifiche alla grafica, modifiche, puoi fare qualsiasi cosa qua dentro ovviamente per ripristinare il tutto puoi cancellare direttamente questo documento e basta solo questo devi cancellare chiudiamo un attimo la cartella ovviamente devi anche svuotare il cestino svuota anche il cestino e elimina per sempre questo documento poi quando vai ad avviare Fortnite si ripristinerà quel file e ne aggiungerà uno nuovo nella cartella una volta fatto andiamo direttamente sulla nostra rete impostazioni di rete e internet impostazioni di rete avanzate vai direttamente sulla tua rete ovviamente o wifi o ethernet è la stessa cosa altre opzioni scheda modifica sempre sulla tua rete devi andare protocollo internet versione 4 tcp ipv4 ci clicchiamo sopra ed eccoli qua possiamo ottenere un diritto server dns automaticamente io ovviamente non ho problemi di errore matchmaking su fortnite però dei problemi in questo tutorial è utile anche per chi vuole abbassare il ping quindi abbasseremo anche un po il ping nelle partite quindi utilizzi seguenti indirizzo server dns come ti ho detto se fai correre il benchmark questo programma ti dirà i migliori server dns da aggiungere su questo protocollo internet in questo caso e vai su risposte ho stato qua vedrai tutti i dns in servizio e sono disponibili e funzionano e questi qua invece che non vanno bene con una linea rossa vuol dire che vanno malissimo e queste invece sono le risposte ovviamente il miglior server questo qua di 8.8.4.4 poi c'è il server il cloudflare 1.1.1.1 quindi i migliori server li puoi anche trovare qua per esempio cloudflare questo è dns quindi in questo caso va aggiunto 1.1.1.1.1 e sotto 1.0.0.1 è questo di cloudflare fai ok per salvare così il protocollo se non ti trovi bene con il cloudflare puoi scendere giù e c'è quello di google da 8.8.8.8.8 e poi abbiamo i 2.8 e i 2.4 quindi sia per il primo che il secondo dns che vanno aggiunti qua sopra oppure dg core ovviamente li puoi testare tutti oppure puoi testare quelli là su dns benchmark io ovviamente rimango su otteni indirizzo server dns automaticamente e faccio ok se invece hai altri problemi con il match banking invece devi fare qualche aggiornamento quindi gestione dispositivi tasto destro su start gestione dispositivi schede di rete le deccole qua questa è la mia rete che uso questo qua attraverso il cavo ethernet aggiorno driver cerchi i driver nel computer scegli da un link di driver disponibili oppure vado direttamente sulla mia scheda madre della B450 gaming plus la mia scheda madre vado a scaricare direttamente i driver per un controllo ethernet quindi gli ultimi driver rilasciati per l'ethernet metto questo faccio avanti scarico e installo così driver e ora non mi resta che entrare un attimo su fortinet e fare anche le modifiche al matchmaking ora andiamo direttamente su partita qua sulla rotella regione di matchmaking puoi mettere direttamente automatico oppure prova così a scegliere uno di queste regioni almeno anche se fai molti ping però nella partita del matchmaking sei entrato quindi stai giocando senza problemi solo con un ping molto più alto e basta oppure medio oriente 129 millisecondi dipende poi dalla tua rete di quant'è il ping è alto o molto basso quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao